Siamo a Messina, Palazzo del Governo, Prefettura. Stiamo aspettando, stiamo aspettando Berlusconi. Ci sono televisioni di tutto il Paese. La televisione di Berlusconi è in prima fila. Da un lato ci sono i manifestanti contro il ponte, dall'altro lato ci sono i superstiti della sciagura e della disgrazia che si è abbattuta su questa città. Questo è il Palazzo del Governo. Manca la bandiera della Sicilia come al solito. Grazie. 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 Vediamo anche i giornalisti.